Modelli di iniziative che coinvolgono il territorio, ovvero come si può fare educazione alla legalità partendo dal territorio? In questa presentazione cercheremo di fornire un modello ai colleghi insegnanti, un modello che nasce dalla riflessione seguita alle nostre esperienze. Una riflessione che possa essere un utile stimolo anche in occasione dell'entrata in vigore della legge sull'introduzione dell'educazione civica dell'agosto 2019. Il lavoro di progettazione condotto all'interno dei centri di promozione alla legalità e delle reti territoriali ha alla base una ricchezza, quella di progettare rispetto ad esigenze e bisogni, reali ed attuali, non solo del mondo scuola ma anche del territorio che ospita la scuola. E allora, che cosa si intende per territorio? La caratteristica fondamentale dei progetti realizzati dai CPL Lombardia è quella di creare un osmosi fra un dentro e un fuori. Si esce da scuola e si agisce su un territorio e il territorio a sua volta agisce entrando nella scuola. Territorio diventa quindi il luogo dei bisogni da osservare e cogliere, il luogo della diversità e della trasversalità delle competenze. Nel concetto di territorio abbiamo incluso innanzitutto la comunità locale, intesa come istituzioni, associazioni, imprenditoria locale, cittadinanza. I luoghi pubblici e i luoghi istituzionali, biblioteche, piazze, centri sportivi, sale comunali, tribunali. I poli di cultura come le università o i musei o gli osservatori di ricerca, le fondazioni presenti a sostegno della comunità locale. Non dimentichiamo, nella nostra accezione, i luoghi da riqualificare e fra di essi un'attenzione particolare meritano i beni confiscati alle mafie e restituiti alle comunità. Il territorio si è connotato anche come un luogo da attraversare, con marce o con veri e propri viaggi dal nord al sud dell'Italia per comprendere e studiare il fenomeno della colonizzazione mafiosa. Infine, il territorio è un luogo interiore. Il luogo della storia, della memoria, dell'emozione. È lo spazio del rispecchiamento fra interno ed esterno e diventa un simbolo. Il luogo in cui il cittadino vorrebbe vivere, si rispecchia, desidera e a cui aspira. Quali obiettivi abbiamo individuato nelle iniziative che coinvolgono il territorio dei progetti CPL? Dall'analisi dei progetti realizzati sono emersi vari obiettivi, alcuni dei quali non erano consapevolmente presenti in una fase iniziale di progettazione ma sono stati osservati al termine del progetto. Scopo delle iniziative che coinvolgono il territorio è un educare attraverso l'agire, il fare, per poter leggere la realtà con strumenti concreti. L'aumentare, e non solo fra gli studenti, il senso di appartenenza al proprio territorio e contribuire quindi allo sviluppo di una cittadinanza attiva. Il mobilitare è un tessuto sociale, creando un legame e un continuum fra i diversi attori e agenti territoriali. Studenti e docenti, per iniziare, anche di scuole di diverso grado, ma poi istituzioni, artisti, commercianti, cittadini, fino ai passanti. In questo modo si è provato ad ottenere inclusione, connessione e cooperazione in un lavoro di rete. Spesso uno degli obiettivi da individuare e raggiungere è il monitoraggio di un fenomeno presente sul territorio, il riqualificare una piazza della città ad esempio, e le azioni da fare sono il controllare, il prevedere e il fare concreto per trasformare il fenomeno e quindi il territorio stesso. A livello individuale, il più alto obiettivo è quello della consapevolezza. L'interiorizzazione di alcune problematiche porta al confronto con le proprie incoerenze, quelle della propria famiglia, del proprio gruppo di amici, stimolando così una riflessione che a volte parte proprio da un sentimento di vergogna. In questi progetti si raggiunge inoltre l'importante traguardo dell'autovalutazione dell'operato e del risultato ottenuto. Sono interessanti anche le modalità specifiche di realizzazione delle iniziative che coinvolgono il territorio. Si parte dal fare, dall'agire, e spesso si realizza un prodotto concreto, un'app, un oggetto di artigianato, un video, uno spettacolo o una mostra, per il quale si rende necessaria una trasversalità delle discipline. In questo modo viene favorito un approccio collaborativo ed esperienziale all'apprendimento. Si può parlare, in più di un caso, di peer-to-peer education. Lo studente esce dal ruolo di utente e fruitore di servizi e diventa agente di cambiamento ed apprendimento. Un evento sul territorio implica di necessità una presenza fisica, per una manifestazione, per una marcia, e questo sposta immediatamente l'asse da una eccessiva mentalizzazione dei temi trattati. Si apprende usando il tramite fondamentale del corpo, con il teatro, con la voce che urla slogan, con un flash mob o con la semplice presenza. Da qui deriva anche un forte rapporto, in ciascuno dei progetti analizzati, con la creatività e con l'arte, che diventa essa stessa luogo di partecipazione e di inclusione. Un'altra modalità che abbiamo ravvisato è quella di una comunicazione empatica ed emotiva degli eventi legati al territorio. Essa è ottenuta a volte con il coinvolgimento di testimoniali importanti, o utilizzando la modalità del mentoring, in un affiancamento degli studenti a qualcuno di più esperto che comunica con empatia la propria esperienza ed aiuta a fare da solo. Ci sembra interessante sottolineare la relazione con l'incerto come modalità di procedere nell'attuazione dei progetti. Ciò che è incerto, e a volte indicibile, attraverso una narrazione, come le storie di mafia, e attraverso un simbolo che veicola emozione, si trasforma, si connota, prende una morfologia e diventa più definito, diventa dicibile. Tutte queste modalità operative hanno assicurato agli eventi realizzati una partecipazione attiva ed appassionata. Vogliamo concentrarci anche su alcuni aspetti più prettamente scolastici che i progetti di iniziative sul territorio hanno permesso di realizzare. Parliamo di didattica e del particolare rapporto fra studenti e docenti che si è venuto a creare nelle esperienze in esame. Il tipo di approccio didattico è diverso dall'ordinario. In questi casi il docente, che ha ricevuto a monte una formazione sulle tematiche trattate, offre agli studenti uno stimolo, e gli studenti sono chiamati ad una rielaborazione di quello stimolo. Il docente ha il ruolo di supporto di colui che indirizza l'elaborazione affidata agli studenti. Questo tipo di approccio consente una collaborazione più paritaria fra insegnanti ed alunni. L'assenza di schemi didattici precostituiti mette i docenti in una posizione di apertura. Si affidano, diversamente da quanto può avvenire in classe, alle risorse dei propri studenti, dimostrano un atteggiamento di fiducia, attesa e sospensione per accogliere l'originalità del lavoro dei ragazzi. Gli insegnanti aprono uno spazio all'improvvisazione all'interno del loro ruolo di educatori. Dall'altra parte sono valorizzate le risorse e le competenze degli studenti, che vengono in alcuni ambiti riconosciuti come più competenti degli adulti. Gli studenti non apprendono in senso utilitaristico, non si fa e non si studia per un voto, ma in questi contesti ci si basa su e si incrementa la motivazione intrinseca del ragazzo. Non c'è da stupirsi, quindi, se all'interno di queste esperienze i ragazzi abbiano dato risposte inattese e sorprendenti. La mancanza di una valutazione apre alla possibilità di sperimentare in un clima di assenza di giudizio. Su entrambi i fronti, quello degli studenti e degli insegnanti coinvolti nei progetti, c'è un fattore di gratuità che apre alla passione e al coinvolgimento e funge da stimolo per attivare sistemi di motivazione e ricompensa intrinseca. Che le neuroscienze ci dicono essere il più potente meccanismo di automotivazione. Una scuola così fatta assomiglia positivamente ad un vero laboratorio di sperimentazione relazionale. Come in tutti i progetti innovativi, riteniamo importante segnalare alcune criticità che abbiamo riscontrato. Una asincronia fra i tempi e i ritmi di scuola, CPL, enti e soggetti coinvolti sul territorio porta a una difficoltà organizzativa e di gestione. Il linguaggio usato dai CPL, inoltre, è il linguaggio della vita, che parte da un agire per comprendere, ed è diverso da quello del mondo scolastico. A volte si rendono necessarie delle traduzioni fra mondi differenti. Il tema della legalità non è riconducibile ad una sola materia o al solo insegnamento di cittadinanza e costituzione. Come fare quindi a trovare una proficua collaborazione con tutti gli altri insegnanti, anche con quelli che a volte non condividono o non sostengono le iniziative? Un altro rischio che si corre è che non venga percepita la pregnanza degli eventi che coinvolgono il territorio. Ci rendiamo conto, infine, della difficoltà di trovare dei criteri adatti per esprimere una valutazione dei risultati ottenuti. In un sistema in cui il paradigma è «se non puoi valutarlo, non esiste», come trovare le modalità per valutare l'acquisizione di consapevolezza che osserviamo. Nei nostri progetti siamo stati testimoni di iniziative di successo e siamo certi di poter cogliere queste criticità come delle possibilità e non come ostacoli. Per concludere, ci piace chiamare questa sperimentazione di modelli di iniziative che coinvolgono il territorio con una definizione simpatica e leggermente provocatoria. Vogliamo darle il nome di «didattica della confusione», ricordando lo studente Luca che al termine di uno dei laboratori sui temi della legalità si è rivolto alla sua insegnante dicendole «questa esperienza mi è piaciuto molto, ma prof mi ha confuso». La confusione che creano tali positive iniziative è quella della complessità, che muove emozioni, che accresce la consapevolezza e favorisce partecipazione, democrazia, libertà. I progetti analizzati, spesso, non sono stati la conclusione di un percorso, ma l'inizio di nuove riflessioni. I progetti in apertura ed osmosi col territorio creano da principio discontinuità, con uno stile di vita e con un sentire comune, suscitano contraddizioni e confusione. A volte portano a raccontare la propria storia, quella della propria famiglia, portano ad interrogarsi sui propri valori e sui valori del territorio che ci circonda. Il confronto è produttivo, il pensiero viene scomposto, avvengono salti di consapevolezza. Ora si può fare una scelta, di condivisione o di rifiuto, ma una scelta che certamente contiene una maggiore responsabilità. Per creare, rinsaldare o rinnovare la connessione con il proprio territorio. Grazie.